La cultura del libro nell'arte della moda e del costume. È il titolo della mostra organizzata dal Consiglio regionale allestita nei locali dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Viersenale a Torino fino al 18 maggio. Una trentina le opere esposte e realizzate dagli studenti del Liceo Passoni di Torino che hanno utilizzato materiali di recupero per promuovere la cultura del bello attraverso i libri e la moda. Allora la nostra scuola organizza sempre numerosi eventi a cui può partecipare il pubblico e come in questo caso abbiamo organizzato una mostra in cui esponiamo i lavori che vengono fatti durante l'anno scolastico. Tutte le collezioni che si possono vedere in questa mostra sono lavori di ragazzi che sono usciti anni fa e alcuni invece che sono ancora nella nostra scuola. Un altro progetto che stiamo facendo durante questo anno scolastico è lavorare su dei copricapi per la sfilata che faremo a fine anno in cui sfilano tutte quante le classi e che durante l'anno scolastico hanno preparato chi i vestiti, chi degli oggetti, chi degli accessori e così via.